Rockwell Automation utilizza le proprie soluzioni di gestione delle informazioni e di controllo di processo per aiutare le più importanti aziende del settore life science nel mondo a osservare in maniera più approfondita le proprie attività produttive. I componenti chiave del vostro processo produttivo parlano tra loro e con voi, consentendovi di prendere decisioni più consapevoli in tempo reale. Questo vi dà un vantaggio di qualità e produttività rispetto alla concorrenza. Sarete in grado di risolvere eventuali problemi rapidamente e con sicurezza e precisione tali da ridurre al minimo i tempi di fermo, massimizzare la qualità ed accelerare il lancio di nuovi prodotti. Per scoprire in che misura un maggiore controllo ed una maggiore visibilità possono migliorare l'efficienza delle vostre attività produttive, contattateci per un appuntamento.